La Federazione di Luce, via Blasem Godkild, 13 settembre 2020, traduzione marina, b, ancora una volta, eccoci qui, anche se le cose sembrano andare peggio, in realtà mi sento più fiduciosa, ho riflettuto molto e, alla fine della giornata, il mio cuore mi dice che, sebbene ci siano ancora molti pezzi sconnessi da percorrere, la strada che stiamo percorrendo, in effetti, ci sta portando in un posto molto, molto migliore, buongiorno, fole, benvenuta a te Blasem, benvenuto a ciascuno, davvero un inizio positivo, che ovviamente porterà a un esito positivo, b, fa la differenza, come molti, sono stata così confusa nel mio pensiero e, in effetti, nelle mie verità, tuttavia, il sapere che tutto andrà bene sta diventando più forte per me e dobbiamo solo chiudere i portelli e andare avanti e superarlo, facendo brillare la nostra luce tanto quanto siamo in grado di fare, in un dato momento, fole, ci chiediamo se oggi hai proprio bisogno di noi, Blasem, b, divertente, tuttavia, meglio chiarire che non abbiamo bisogno di voi, nel modo più gentile possibile, il bisogno è un sentimento di mancanza in qualche modo, tuttavia, apprezziamo molto tutto ciò che avete da offrire dal vostro livello di conoscenza, dà speranza a tanti, fole, anche se scherziamo con voi, vediamo quanto lontano avete viaggiato, quanto più in profondità siete entrati nella conoscenza del sé, durante tutto ciò che è stato fatto per confondere e distruggere, ma allo stesso tempo, portate forza e verità in un mondo che è stato crivellato di bugie per eoni di tempo, b, sì, le cose che sono state portate alla mia attenzione riguardo alla verità o alle bugie, hanno portato la mia comprensione della corruzione a un livello completamente nuovo, alcune cose stanno bene, altre no fole, carissime anime, in questo tempo di ricezione, vi suggeriamo di permettere alle cose di filtrare attraverso di voi, non di risiedere dentro di voi, b, tempo di ricezione, fole, infatti, perché non solo molti stanno ricevendo informazioni nuove per loro, ma sappiate che si ricevono e si accettano anche doni di grande rinnovamento all'interno dei propri sistemi individuali, stai mettendo un punto interrogativo nella tua mente, Blasem, con questo, intendiamo dire che, sebbene possiate sentirvi abbattuti e confusi e tutti i tipi di disturbi all'interno del sé, a causa di tutto ciò che sta accadendo, vi chiediamo di accettare la consapevolezza che state per essere migliorati, come esseri umani, i più grandi cambiamenti stanno avvenendo davanti ai vostri occhi, non stiamo dicendo che il peggio sia passato, neanche per sogno, eppure, stiamo dicendo che la vostra fiducia, nella vostra verità, si espandere in modo esponenziale, più sentite nel profondo del vostro essere, di questa verità, b, la verità che sto cominciando a capire non è quella di una questione particolare, ma il silenzio dentro di me, quella sensazione di, io divinità e nulla, mi permette di sentirmi più forte che mai e non importa cosa richiami la mia attenzione, tornando in questo posto dentro di me, s.o. che faccio tutto quello che posso facendo niente altro che tornare a quella conoscenza, fole, stiamo sorridendo grandemente da un luogo di piacevoli energie, b, cosa, di me, guardami andare, forse ho avuto la visita di un walking, fole, no, blasem, hai semplicemente camminato più avanti lungo la strada, come stanno facendo tutti loro, sì, c'è ancora molta strada da fare, tuttavia, trasferendo i pensieri al positivo, all'interno di tutto ciò che sta accadendo, la frequenza vibratoria di ogni pensiero permette al nuovo mondo di avvicinarsi sempre di più, ci saranno molte cose che devono avvenire che saranno la gioia più gioiosa, comprendiamo la difficile situazione di molti sul vostro pianeta, comprendiamo che molto di ciò che sta accadendo sarà una rivelazione, che porterà il vostro pianeta in subbuglio, in un modo o nell'altro, non stiamo negando ciò che sta per accadere, tuttavia, vi chiediamo di concentrarvi diligentemente sul risultato, mantenete i vostri pensieri esultanti riguardo a questioni che vi condurranno a un'unione più brillante e luminosa, abbiamo, per così tanto tempo, parlato di giorni meravigliosi, e affermiamo categoricamente che vi state muovendo verso questi tempi, quindi, quando tutto intorno a voi sembra più caotico di quanto potete immaginare, non solo vi sentirete abbastanza forti da seguire i vostri ideali, scoprirai un voi che vi piacerebbe molto essere, tuttavia, sentirete che quelle posizioni erano solo per il molto, b, sento che volete dire santo, è vero, sembra una parola strana, fol, non è forse per quello che ti è stato rivelato riguardo a certi santi che non sono affatto come sono stati ritratti, b, probabilmente, non che io sia d'accordo con la santità, comunque, a essere onesti, allora dovremo semplicemente attribuirlo a un modo di dire, fol, come originariamente previsto, blasem, b, per favore, continuate, fol, il voi, che scoprirete nella misura in cui conoscerete sempre di più voi stessi, vi porterà in una diversa sensazione di voi stessi, una gioia, una sensazione di contenuto, grazie alla vostra conoscenza di sé, siamo molto consapevoli di come insistiamo, come si suol dire, riguardo a questo argomento, tuttavia, è di tale importanza, conoscere se stessi cambia le carte in tavola, perché in quella conoscenza risiede tutto ciò che è necessario, è come se dentro di voi si fosse sbloccato uno schedario e ogni file fosse stato letto e compreso, eppure, allo stesso tempo, le pagine sono bianche, b, e, elaborate per quelli di noi che lo desiderano, per favore, anche se, a un livello non detto, so cosa intendete, fol, blasem, quello che siete, e tutto quello che siete, all'interno della mente umana, c'è la necessità di conoscere tutto e, tuttavia, all'interno del sé anima non c'è la necessità, perché tutto è conosciuto, b, anche se non lo sappiamo, fol, anche se pensate di non saperlo, b, quindi, se siamo pronti ad accettare che sia così, come lo scopriamo, come sappiamo di sapere tutto, fol, consentendo alla conoscenza di dirvi che non c'è niente da sapere, b, perché lo sappiamo già, fol, perché tutto è conosciuto da tutti tutto, perché tutti tutto e tutti è il tutto, b, è abbastanza ridicolo, vi sto seguendo, torniamo compiti più pratici, compiti, cosa mi ha fatto dire questo, fol, siamo stati noi, il piano in questo momento, per ognuno di voi che state leggendo queste parole e anche per coloro che sono informati con altri mezzi, è, essere la vostra luce, questo è, quando consideri questo, blaseme ciò che rappresenta effettivamente, puoi dire che c'è qualcosa di più profondo che potreste fare, anche a livello pratico, perché, anime carissime, vedete, essere la vostra luce copre tutti e tutto nei modi di voler aiutare, in modi che adempiono al vostro scopo qua giù in questo momento, nel farlo, tutto ciò che dite, tutto ciò che scegliete di fare, verrà dal più alto luogo di chi siete, non c'è posto migliore, non c'è più un posto superiore da cui risuonare, e quando risuonate da questo luogo di conoscenza superiore di voi stessi, non c'è nient'altro che il più grande bene che verrà da ogni pensiero, ogni azione, ogni parola che viene pronunciata, quando vivete nella vostra verita, e lo intendiamo nel modo più letterale possibile, in un certo senso, quando la vostra verita è dove risiedete in ogni momento, c'è solo amore che può venire da voi, in questo, intendiamo amore dall'aspetto più alto che può emanare da voi, oggi parliamo in questo modo, sapendo che mentre molti leggono queste parole, è in atto un'attivazione, il cuore si sta muovendo, perché si connette a questi codici e li riconosce come provenienti da casa, b, non succederà a tutti, perché dici per molti, fole, no, e sì, b, una risposta di grande aiuto, fole, in questo, per coloro che non lo provano e potrebbero persino scoprire di avere un effetto negativo rispetto a quello che stiamo affermando, non vuol dire che le parole non stiano aspettando fuori dalla porta e aspetteranno pazientemente il momento in cui si apre per farle entrare, ogni anima cammina lungo il sentiero al proprio ritmo, ogni anima ha il diritto di fermarsi a diverse fermate e rimanervi per tutto il tempo che desidera, ogni anima ha il diritto di trovare la sua strada per tornare a casa, secondo il viaggio che scelgono di intraprendere, per aiutare il loro essere nell'ascesa a regni superiori, solo perché uno si comporta risponde a una questione in modo molto diverso da voi, non significa che sia migliore o peggiore di voi, ovviamente non è così, significa semplicemente che hanno questioni di cui occuparsi lungo la strada, che li porterà in allineamento con se stessi in un modo che ne trarranno beneficio, quante strade o mezzi di trasporto diversi ci sono per un dato luogo, cari amici, un modo potrebbe adattarsi perfettamente a voi, ma a un altro potrebbe sembrare il più noioso, un altro modo può sembrare adatto ad alcuni e tuttavia non c'erano biglietti disponibili, e così è stato scelto un altro modo e si è scoperto che era il più divino, anche se non ci si aspettava che facesse parte del loro piano, siete flessibile nei vostri pensieri, b, penso che questa debba essere la dichiarazione dell'anno, ragazzi, posso davvero capire perché abbiamo bisogno di essere esposti ad alcune delle cose che sono là fuori ora, affinché possiamo assorbire, accettare e trasformare i nostri sentimenti iniziali al riguardo, al fine di essere poi abbastanza forti da aiutare gli altri, quando certe informazioni vengono portate alla luce e quelli che sono rimasti ingegni crollano in ginocchio, fole, e, naturalmente, voi, guerrieri della luce, la forza della luce che non può essere sconfitta o distrutta, poi li accarezzerà delicatamente, aiutandoli ad alzarsi in piedi, prenderà la loro mano e li porterà oltre il ponte, b, forse è meglio che ordini una flotta di minibus, sono sicura che avrei uno sconto, fole, non c'è bisogno, carissima Blasem, perché le ali degli angeli saranno lì per aiutarvi, b, oh che bello, il mio cuore si è aperto e sono venute le lacrime, per me, questo significa sempre verita, con tanta gratitudine, in servizio amorevole, io sono, traduttore.